Per il ciclo Vive la France... Sono il primo tenente Bruno von Farc. Cercherò di non arricarvi di studio. Necessiterò solo di una stanza e di un posto per lavorare. Dovremmo abituarci a questo tema. Il piano è vostro, immagino. Il brano che suonate sempre l'avete scritto voi. Ero un compositore prima della guerra. Questo tedesco è un nostro nemico, lo vuoi capire o no? L'unica persona con cui ho qualcosa in comune sei tu. Suite francese. Venerdì alle 20.55.